Le persone positive oggi sono 1.578, ieri erano 1.557, di cui 1.514 in isolamento domiciliare, 56 ricoverate e 8 nella RSA di Ragusa. Salgono i decessi a 261, due donne in più rispetto a ieri, tutte e due di vittoria e stavano in terapia intensiva. Ma guardiamo i dati per comune. Acate 40, Chiaramonte 23, Comiso 280, Giaratana 8, Ispica 23, Modica 83, Monterosso 8, Pozzallo 70, Ragusa 335, Santa Croce 62, Scicli 67 e Vittoria 515. Il Covid resta un nemico invisibile che ancora dopo lunghi 15 mesi colpisce senza pietà. Per la provincia di Ragusa, una settimana probabilmente da dimenticare, quella appena trascorsa, che in tre giorni ha registrato il decesso di 10 persone e risultate positive. Guardando l'insieme dei comuni si può notare un notevole calo dei positivi, ma questo non riguarda Vittoria, che appunto pare rivivere l'incubo di qualche mese fa quando con i suoi 500 contagi diventò zona rossa. Ad oggi la soglia è di 515 casi. La campagna vaccinale non prosegue come dovrebbe a fasi alterne tra giornate di pianone e altre di assoluto vuoto. La campagna di vaccinazione in Sicilia non decolla a causa delle tante rinunce per AstraZeneca. Sono ancora in pochi quelli che accettono di farsi inettare il vaccino prodotto dall'azienda anglosvedese. In Italia le morti sospette per trombosi in cui si ipotizza un nesso con AstraZeneca sono una ventina e almeno 5 di queste si sono verificate in Sicilia. Ed è questo il motivo principale che frena la gente e preferiscono Moderna o Pfizer.